bello a tutti ragazzi sono il vostro manu the death bentornati qui sul mio canale primissimo video degli ultimi acquisti videoludici del 2024 anche se in questo video non ci sarà nessun acquisto che ho effettuato del 2024 perché come ben sapete i miei video ultimi acquisti parlano sempre del mese precedente e in questo caso sono quelli di dicembre 2023 lo faccio perché ovviamente ho modo di giocare i giochi e posso parlarvene in maniera più approfondita ma sono sicuro che lo sapete già oramai sono arrivato a tantissimi episodi qua sul mio canale inerente agli ultimi acquisti videoludici quindi sapete già come funziona ma insomma un refresh ogni tanto male non fa bene non ho altro da aggiungere se non ovviamente quello di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto lasciarmi un mi piace qua sotto e unirvi anche voi al mio canale telegram dove posto aggiornamenti sui video che sto facendo o comunque sia sul mio canale in generale bene procediamo con gli acquisti dai per la tua generazione finalmente ho preso scorn per playstation 5 lo avevo già giocato quando era uscito sul pass che era uscito principalmente per xbox ed era un esclusiva sul pass è stato anche una delle pochissime cose che ho scaricato prima di comprarmi la versione originale che ho aspettato aspettato poi alla fine ho deciso di prenderla anche perché un po' era scesa di prezzo e l'ho presa su playstation 5 così me lo sono anche rigiocato col pretesto di averlo preso su un'altra piattaforma e mi è piaciuto mi è piaciuto nuovamente insomma se piace naturalmente quello che fa Jiger diciamo col suo stile o comunque se vi piace aliens e unite che magari vi piacciono anche gli fps puzzle questo gioco è perfetto certo non finisce come avrei voluto che finisse anche perché quando il nostro tanto amichetto compagno di viaggio si incolla letteralmente a noi un po' si intuisce insomma dove va a parare il finale o che insomma non finirà proprio bene come ci aspettiamo come speravamo finisse però è un bel gioco l'ambientazione sono veramente veramente tanto belle è un bel titolo è un bel titolo vi consiglio comunque di giocarlo allora non mi ricordo di nuovo il nome perché c'ho una memoria abbastanza di merda con i nomi delle persone però voglio ringraziarti per avermi fatto scoprire Bramble The Mountain King che ho preso su playstation 5 titolo veramente veramente molto molto bello un action platform con delle idee veramente molto molto interessanti e ha anche questa diciamo tematica mitologia svedese norvegese danese fatta di elfi streghe mostri giganti mi è piaciuto un sacco poi la cosa bella di questo gioco è che è simile diciamo ai little nightmares o a limbo inside insomma tutti questi giochi così è che parte tutto bello e tranquillo con i prati verdi gli uomini che ridono e diventa poi cupissimo e veramente tanto malato cioè si arriva a sacrifici di bambini a streghe bruciate a zombie ci sono addirittura zombie in questo gioco veramente veramente bello parte tranquillissimo e poi diventa di un'inquietudine incredibile ci sono state delle parti in cui mi ha veramente impressionato davvero un grandissimo platform assolutamente prendetelo così come mi è stato consigliato fortunatamente da uno di voi io altrettanto rimbalzo la palla e lo consiglio a tutti quelli che guardano i miei video in generale o comunque i miei ultimi acquisti prendetelo veramente tanta roba per playstation 4 ho preso il bellissimo pro deus ragazzi veramente un capolavoro di gioco che ho finito tra l'altro esattamente al giorno di natale ed è un fps che si ispira moltissimo ai grandi classici del passato tra wolfenstein, doom, exen, daikatana ma soprattutto shadow warrior naturalmente quello vecchio degli anni 90 titolo squisito, veramente squisito ottimi i livelli, ottima la varietà dei livelli bellissima l'impostazione grafica che ha molto particolare che ricorda sia appunto i giochi vecchi ma che ti dà anche quel tocco di modernità di un titolo nuovo bella tutta la lore del gioco questi mostri che arrivano da portali da altre dimensioni quindi si ispira molto a doom ci sono delle chicche che ho adorato come ad esempio lo store dove si usano dove si comprano armi, dove si potenziano il proprio arsenale è un livello vero e proprio e tu entri dentro questo livello e vai a comprare le cose ed è una cosa fighissima che spesso in questi giochi non si fa per risparmiare ovviamente del tempo poi c'è anche un enorme, enormissimo livello che deriva dalla campagna di Kickstarter dove ci sono le facce di tutte le persone che hanno finanziato il progetto e sono delle facce olografiche e questo livello è enorme si vedono tutte le facce delle persone insomma veramente veramente figo c'è tantissima dedizione in questo gioco che comunque non propone qualcosa di veramente nuovo ma lo fa in maniera eccelsa davvero davvero figo non pensavo mi sarebbe piaciuto così tanto eppure ho continuato a giocarci finché non l'ho finito tristemente perché volevo giocarci veramente ancora assolutamente prendetelo grandissimo gioco stavo cazzeggiando su Amazon guardando le collector in uscita o quelle già uscite come facciamo un po' tutti noi insomma andiamo su Amazon vediamo se c'è qualcosa in offerta qualche collector qualche gioco tra le mie ricerche mi capita questa stupenda collector di Deliver Us The Moon per PlayStation 4 limitata a sole mille coppie a un prezzo ridicolo di 100 euro che vabbè il gioco è uscito già da un bel po' ma considerando che quanto insomma è limitata questa collector e quanto è bella anche di contenuti alla fine non ho resistito anche perché il gioco lo avevo già giocato e comprato su PlayStation 5 che era uscito anche su PlayStation 5 mi era piaciuto tantissimo e era per me insomma il discorso era un po' chiuso lì però veramente ho visto questa collector infatti anche l'ho segnalata anche a voi tramite la community di YouTube o forse era anche già direttamente su Telegram adesso non mi ricordo e alcuni di voi appunto mi hanno poi ringraziato di averla presa perché stupenda nei contenuti il gioco era stupendo e spero spero incrocio le dita che uscirà The Leave Us Mars ovvero il seguito dove si va su Marte al posto di stare sulla Luna e niente non ho resistito perché era troppo bella poi era veramente limitata in così poche copie per il prezzo che aveva non era da farsela assolutamente scappare e difatti io sono a posto l'ho presa ma passiamo al vecchiume wow quanto passa il tempo c'è PlayStation 3 oramai è vecchiume e ho preso questo bel bundle di One Piece Pirate Warriors 1 e 2 che è un'edizione che è uscita solamente in Francia in Inghilterra e in Spagna da noi in Italia non è arrivata almeno anche stando quanto un po' vi avevo chiesto su Instagram perché non ero sicuro non era un'edizione che non avevo mai visto anche se i giochi li conoscevo avevo comprato la Limited del primo Pirate Warriors quando era uscito ai tempi di PlayStation 3 perché c'era la Going Merry c'era la nave la barca all'interno della Collector e niente alla fine ho preso questo bundle perché includeva tutti e due i giochi non sono mai stato matto sinceramente per One Piece sono sempre stato un ragazzo da Dragon Ball nonostante questo comprai il primissimo volume quando andavo a scuola nel 2003 il primissimo manga di One Piece lo avevo letto fino a un certo punto poi complice anche un po' l'ottimissima serie su Netflix ho preso anche questo gioco più che altro per provare il secondo ma so già cosa c'è perché comunque i Pirate Warriors ma in generale i giochi alla Dynasty Warriors sono tutti più o meno la stessa cosa li riciclano molto però mi incuriosiva più dal punto di vista collezionistico e di edizione particolare che non avevo mai visto questo bundle di due giochi e quindi l'ho presa e basta giochi che sono tra l'altro su un Blu-ray solo per PlayStation 2 ho preso un titolo che mi ha stupito moltissimo ma già lo conoscevo però giocandolo poi mi sono stupito di più appunto giocandoci ed è Van Helsing che può sembrare un titolo di cacca uno dei classici tratti dai film di quell'epoca che non venivano mai bene in realtà questo è un gran gioco ma più che altro perché è stato copiato al 99,99% dai Devil May Cry nello specifico dal secondo capitolo questo ha veramente tutto quello che ha Devil May Cry sia partendo non so ad esempio dal doppio salto alle sfere che si collezionano al rumore delle sfere che si collezionano all'impostazione delle telecamere alle armi ai mostri che sono abbastanza simili c'è veramente tutto quello che c'è in Devil May Cry solo che la tematica devia tutta sul film di Van Helsing che non era poi nemmeno tutto sto capolavoro è un bel gioco è un bel gioco il doppiaggio che completamente in italiano fa morire da ridere ma era abbastanza un classico di quell'epoca i doppiaggi italiani non è che fossero eccelsi in quel periodo lì però comunque se volete un bel clonazzo di Devil May Cry prendetevi Van Helsing perché ne vale veramente la pena e a tale proposito poi voglio poi fare un video speciale sui cloni di Devil May Cry barra God of War perché su Playstation 2 ce n'è un botto veramente un botto per Nintendo DS in versione PAL ho preso Lost in Blue fatto da Konami non l'avevo mai visto mai sentito e me ne sono un po' pentito di averlo scoperto adesso perché è uno di quei generi che mi piace tanto ma che non si trovano moltissimo nel panorama videoludico che è quello dei survival nello specifico tra l'altro tra le mie serie preferite c'è quello della saga di Disaster Report che da noi ad esempio su Playstation 2 è arrivato col nome di SOS The Final Escape e il secondo capitolo si chiamava Raw Danger comunque non fanno tantissimi giochi a tematica sopravvivenza e Lost in Blue su Nintendo DS è esattamente questo sono due ragazzi che naufragano su un'isola sconosciuta è deserta e devono sopravvivere un po' come il cast away insomma il film cast away con Tom Hanks è bello però è tanto frustrante cioè non riescono veramente a non lamentarsi per due minuti che hanno fame hanno sete hanno sonno hanno freddo cioè tu veramente stai lì come un tossico H24 a cercare cibo a cercare legni per far fuoco a cercare medicinali insomma veramente fai cioè fai solo quello alla fine in questo gioco che va bene va bene però è troppo cioè è troppo persistente come cosa non riescono a durare non so 5 minuti di gioco senza un po' di cibo ecco è frustrante da quel punto di vista perché si è sempre lì a cercare roba per farli sopravvivere tutte e due tra l'altro perché poi lui deve badare anche a lei al di là di questo comunque il titolo è bello ma è un po' frustrante ho poi scoperto che ce ne sono addirittura tre a finire questo e poi mi butterò sul secondo il terzo capitolo che sono usciti sempre su DS tra l'altro ce n'è anche uno su Wii ma pensiamo prima a quelli per DS per la dimenticatissima e fallimentarissima console Panasonic 3DO ho preso i mercenari dal buon vecchio Ale ballanti di Game Evolution al di là del fatto che le copertine americane o le custodie americane per 3DO sono una figata cioè sono due volte quelle di neogeo in altezza ogni tanto compro anche qualche gioco particolare perché voglio giocare naturalmente anche col 3DO i mercenari non l'avevo mai visto non lo conoscevo è un titolo davvero strano che prende molto della cultura degli anni 90 soprattutto per quanto riguarda il film il tagliaerbe ed è un FPS dove sei un militare che praticamente deve entrare in questo mondo virtuale e sconfiggere il cattivone di turno che vuole conquistare il mondo digitale è un FPS interessante è interessante è uno dei pochi FPS dove devi preoccuparti anche oltre che alla salute anche a tuo potere offensivo e difensivo cioè devi ricaricarti praticamente per pararti e sparare contro gli altri non hai ad esempio munizioni limitate e tantomeno hai uno scudo protettivo che ti protegge durante il gioco e le aree sono tutte piatte e sono con dei palazzi in mezzo e ci sono appunto queste torrette di ricarica dove tu ti metti vicino e puoi ricaricare la vita o il potere offensivo o difensivo a seconda anche del colore è un gioco strano però ha proprio quel vibe degli anni 90 soprattutto per il film che ho detto prima che lo rende interessante e molto molto strano da giocare e anche sì è ok ecco ai classici comandi poi il 3DO figuriamoci aveva la crociera direzionale manco gli analogici però il titolo è carino lo volevo provare è una cosa strana insomma strano la cosa bella di questi vecchi giochi è che ti danno sempre un sacco di emozioni ma te le danno il triplo quando poi vai a ricomprare qualcosa che giocavi quando eri piccolo o quando ce l'avevi in quel periodo che era uscita quella determinata console e nonostante io colleziono da 19 anni e mi sono veramente sbizzarrito in queste cose ci sono ancora dei giochi che non ho comprato e che mi sono lasciato da parte per ridarmi un po' a dosi queste sensazioni e finalmente ho preso per ridarmi una di quelle sensazioni Jordan vs Bird per Mega Drive era uno di quei giochi che avevo nel periodo in cui giocavo con il Mega Drive non sono mai stato un ragazzo che ama lo sport e i giochi sportivi se avete visto il mio video sui miei giochi di calcio preferiti sapete che a me il calcio non piace tantomeno il basket o altro sport o l'hockey per dirvi o il rugby insomma questi sport così non mi piacciono però era un gioco che avevo tra i tanti che avevo fortuna avevo anche Streets of Rage per dire e ci giocavo ci giocavo è stato bello rigiocarci e la parte che mi piaceva di più in questo gioco era la sezione Slam Dunk dove appunto tu sceglievi Jordan e facevi le acrobazie schiacciando i tasti nei momenti giusti facevo un sacco di salti strani pirouette vortici insomma gli Slam Dunk ecco chi conosce il basket ne saprà anche meglio di me e niente alla fine l'ho preso sono contento di averlo riprovato dopo così tanti anni e faccio cacare come facevo cacare allora e non mi piace poi così tanto come mi piaceva allora però è solo nostalgia alla fine tra un pranzo e una cena con i parenti faccio una scappatina al mercatino e che cosa trovo l'Husky Wear il controller arcade stick per playstation ha un buon prezzo tutto sommato per il prodotto che è in buone condizioni perfettamente funzionante l'ho aperto e gli ho dato una pulitina perché i tasti erano un po' duri da essere premuti e ho l'arcade stick originale cioè già ce l'avevo l'arcade stick per playstation nello specifico avevo quello per la Namco della Namco però quello della Husky mi mancava spacca è bello poi ha super turbo ovunque ha 8 tasti insomma è un bel controller per l'arcade stick per playstation 1 o eventualmente anche playstation 2 e insomma io non vado mica a cena o a pranzo dai parenti per nulla insomma devo almeno tornare a casa con qualcosa no? dal buon alle ballanti di game evolution finalmente ho preso il game boy player per il cubo in colorazione silver versione giapponese e questo è un accessorio che non avevo mai mai avuto lo conoscevo lo avevo già visto sapevo come funzionava però non ero mai stato interessato ad averne uno poi un po' per curiosità alla fine ho ceduto e l'ho preso non mi interessava neanche all'epoca quando avevo il cubo quando comprai il cubo nel 2003 perché avevo l'advance che comprai due anni prima l'advance rosa trasparente tra l'altro lasciamo stare quindi non mi serviva cioè non mi incuriosiva poi ne ho preso uno appunto per provarlo recentemente interessante si aveva forse più senso all'epoca però il prodotto era interessante e appunto ne ho preso uno così da collezione questo è un po' il super game boy player per super nintendo però riproposto per cubo era una bella cosa quando c'erano queste cose era un'idea carina e interessante di portare il non portatile su sistemi da casa però non so quanto effettivamente abbia interessato il pubblico io sicuramente no perché non lo avevo quindi eh sì è ora della bomba finale del mese e senza tirarla troppo alle lunghe che è già qua Atari 2600 perché alla fine dopo aver acquistato 2600 plus dopo averlo continuato ad utilizzare regolarmente ho pensato che non potevo non avere almeno un Atari 2600 originale da tenere in collezione giusto proprio per avercela così e per averla appunto da collezione 2600 plus mi sta ancora piacendo ci sto ancora giocando ma ne volevo appunto avere una da collezione che non modificherò non modificherò con il composito o con l'RGB la lascerò così com'è l'ho presa tra l'altro da quel gentilissimo ragazzo che vedo sempre quando vado al mercatino tipico della mia zona e la avevano da vendere e alla fine l'ho presa e l'ho completata perché mancavano delle cose mancava la cartuccia e i due controller li ho presi su Vinted e ho completato il bundle da tenere appunto da collezione è tenuta anche abbastanza bene sono contento dai ne volevo avere una originale già ce l'avevo avevo il 2600 Junior anni fa poi l'ho rivenduto perché non ci giocavo ho ripreso il 2600 Plus e adesso ho comprato il 2600 il Darth Vader insomma quello nero originale da tenere per collezione questo è un po' il mio trascorso con Atari e con mia grande gioia la mattina dopo che sto editando il video degli ultimi acquisti mi sono accorto che non ho fatto i saluti finali vabbè ragazzi lo faccio adesso con i capelli spettinati al mattino ore 8 ragazzi spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere qua sotto che cosa avete acquistato voi in questo periodo cosa state giocando cosa avete messo nel sacco per così dire soprattutto per quanto riguardato magari le spese o gli acquisti che avete fatto a dicembre vado a prendermi un bel caffè adesso finisco il video vi saluto noi ci vediamo alla prossima come sempre ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.